Con la forza e le correnti delle acque non si scherza, soprattutto con quelle interne, laghi e corsi d'acqua dolce ancora più insidiose del mare aperto. Lo sa bene un ragazzo di origini marocchine di 19 anni che deve la sua vita alla prontezza di riflessi di un carabiniere fuori servizio. Ieri pomeriggio si trovavano entrambi, come amici e parenti, nell'area picnic della Golena del Furlo, un'ansa formatasi nel corso del fiume Candigliano, nei pressi di Acqualagna, zona frequentatissima come ogni anno per la festa del primo maggio. Il ragazzo verso le 16 stava recuperando un pallone finito in acqua quando all'improvviso, fatti alcuni metri nelle acque del fiume, è stato risucchiato da un gorgo e la corrente rischiava di farlo annegare in pochissimi minuti. Il carabiniere, in forza al comando provinciale di Pesaro, sentendo le urla di richiamo del ragazzo, non ha esitato e si è gettato in acqua, lo ha afferrato, lo ha portato in salva arriva anche con l'aiuto di altre persone, accorse nel frattempo per dar manforte al militare. I due sono stati subito soccorsi anche dai sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi con un principio di ipotermia all'ospedale di Urbino e dopo le specifiche cure mediche sono stati presto dimessi fortunatamente senza riportare rilevanti conseguenze fisiche se non per il ragazzo l'aver rimediato un brutto spavento in una giornata di festa che poteva per lui trasformarsi in una tragedia. Il carabiniere invece gode di buona salute.